Puoi utilizzare Target PA mediante un menu tradizionale o mediante la sua metafora interattiva. Per iniziare, leggi questo documento e per le prime curiosità consulta le risposte alle domande frequenti. Puoi sempre chiedere e ricevere assistenza, che ti verrà fornita rapidamente. Le tabelle si presentano con questa interfaccia, semplice ed intuitiva, la ricerca e le funzioni. Ma per saperne di più, puoi sempre consultare l'help, che descrive le funzioni d'uso e i campi della tabella. Questa è la tabella degli obiettivi e da qui passiamo a quella degli indicatori, nella quale si fissano i valori target da raggiungere. Da qui passiamo alla tabella dove puoi definire il tuo piano di lavoro descrivendo attività e tempi. Target PA funziona come un navigatore per auto. Infatti, dopo che hai definito gli obiettivi e pianificato le attività, saprai sempre come tenere la rotta, con report ed email di alert che ti terranno informato sulle scadenze delle attività e sul livello di efficienza e di efficacia della performance individuale ed organizzativa.